In che cosa pensi di distinguerti, ad esempio, da Mauro? Dall'esito fallimentare, diciamo, da un punto di vista artistico? No, Tiziano, è che non sono ancora morto, ecco. Solo quello, dimmi la verità. Probabilmente. No, dimmi la verità. Una volta mi hai detto che secondo te Mauro non era un artista, un vero artista. Dico, il fatto che pensavo di poter fare capolavori quando avevo 30 anni, poi invece non ne ho fatti, però ho proseguito, basta. Comunque ti posso dire una cosa sincera, che io continuo a non capirti. Nel senso io non capisco perché non fai in modo di scrivere delle cose pubblicabili, cioè nessuno pubblicherebbe quello che scrivi. Comunque io alla fine però i miei articoli li pubblico. Eh, lo so però, magari sono cambiati un po' i giornali però, eh. No, non c'entri di male, eh, a scrivere su giornali così regionali però. Sì, ma te i tuoi libri non li pubblichi però. Ma perché devo, sono obbligata a pubblicarli? Ma dovresti. No, la pubblicazione è una cosa che viene dopo nel caso. Ma quando? Come, io non ho capito come ti mantieni. Grazie alle donne, Tiziana. Cioè a mia madre? A chi? Ma che cazzo dici? Ma voglio sapere come dove trovi i soldi. Cioè chi c'entra tua madre in tutto questo? Cioè abiti a trasferere. Chi c'entra tua madre? In una casa favolosa. Dove trovi i soldi? Non sei, non fai un lavoro da impiegato, non c'hai uno stipendio. Vabbè, di tanto in tanto arrivano dei soldi, d'accordo. Uomini o donne? Non è che le donne mi danno i soldi, magari per gentilezze fatte nel corso degli anni mi favoriscono. Comunque abbiamo fatto una fine tremenda. Vabbè, magari non è ancora finita. No, non è finita. Non è ancora finita tra l'altro. Non è ancora finita, non sappiamo. Non è ancora finita, non è ancora finita, non è ancora finita.